è andato a prendere l'etame? dove è andato a prendere l'etame? fino a dove? fino a dove è andato a prendere l'etame? vuoi sederti? vuoi sederti? no ma va la testa dei piccini anche se mi fa male sai come si dice? no se bella vuoi apparire un poco devi soffrire soffro tanto si ciao ma io non ho capito quando è che parti te? giovedì adesso oggi che giorno è? lunedì martedì mercoledì e giovedì mattina? giovedì mattina ancora due giorni? solo due giorni? ma oggi ancora sono le 4 manca tutto il giorno ancora oggi oggi domani è mercoledì cosa mangiamo per cena? vuoi venire a cenare giù? ma scusa cosa c'è nel frigo? non c'è roba nel frigo mi sembra che... oh madonna che testa guarda io qua cosa c'è ha chiuso, ha chiuso il cuore